Danni incalcolabili da un punto di vista ambientale e archeologico è ancora da quantificare sotto il profilo economico. L'unica cosa certa è che attusa l'incendio di vaste proporzioni che è stato appiccato ieri, quasi sicuramente da malviventi in diversi punti del territorio, ha messo in ginocchio l'intero paese. Centinaia e centinaia gli ettari di terreno distrutti dalle fiamme che hanno interessato anche l'area archeologica alesa e parte dell'acquedotto comunale. Sinceramente tutto quello che c'era da bruciare si è bruciato tutto il territorio, sia attorno a Tusa Centro e anche in prossima età delle frazioni di Castel de Tusa e Melianne. Approfitto per ringraziare oltre a tutta la popolazione, in modo particolare il corpo forestale, greggiamente guidato dall'ispettore Chiel, i carabinieri con il mare Sciallone Rosa che insieme a me siamo stati in servizio, siamo 24 ore consecutivi, i miei vigili urbani, il corpo di protezione civile, nonché volontari, perché di San Mauro, di Sant'Agata, di Santo Stefano, di Camaste, quindi ho avuto l'aiuto da parte di tutti. I danni, per quanto mi riguarda, sono inestimabili. Voi dovete pensare che noi abbiamo perso la bellezza di 354 ettari di bosco di Tardare, che erano le nostre risorse. Peraltro c'è una caratteristica unica, il nostro bosco parte dal mare fino alla montagna. Io vengo da lì, sono certo che tutto si ripristinerà, però in questo momento abbiamo tutto bruciato. Gli scavi archeologici da lì sono stati interessati dalle rockeforte, la zona in prossima metà della Corà, dall'incendio, la torre Selichente qui sulla Nazionale ugualmente, nonché tutta la zona del Castagneto della Madonna attusa, quindi dei beni, delle risorse fondamentali per noi. Adesso ho pure verificato che tutta la condotta idrica che portava l'acqua qui al bosco di Tardare è andata tutta bruciata. Quindi calcolare i danni, secondo me, non riesco a dire una cifra, però a livello affettivo sicuramente inestimabile.